Ciao a tutti! Io mi chiamo Luce e sono la protagonista del fumetto di Giada Romano dal titolo Riflessio di Luce che potete acquistare tranquillamente sul sito www.mixhop.it oppure potrete ordinarlo tranquillamente in qualsiasi fumetteria In questo nuovo video impareremo a disegnare in stile cibi la bravissima cantante Ariana Grande Cosa stiamo aspettando? Incominciamo! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!